I dati sono il nuovo petrolio. Una banca di dati digitali che, una volta inseriti nel sistema, genereranno informazioni per alimentarlo. Senza dati è impossibile avere un quadro chiaro della storia medica di un paziente, sapere come è stato trattato e misurarne i risultati. Oggi, in un mondo sempre più digitale, soprattutto in questo contesto post-Covid, stanno emergendo nuove soluzioni, nuove applicazioni per i dati digitali. È impossibile guardare a ciò che è successo negli ultimi due anni e non trarne alcune conclusioni. Questo andrà a beneficio delle persone che fruiranno dei sistemi sanitari in futuro. Le persone sono molto più abituate a usare l'information technology nella loro vita quotidiana, sia i medici professionisti che i pazienti. È essenziale una circolazione di dati più intensa e uno scambio di dati sanitari più efficace per garantire un vero mercato unico della sanità e della salute. Con la libera circolazione delle persone e dei servizi sanitari, sarà possibile solo se i dati sanitari di tutti noi non resteranno imbrigati dalle frontiere. In questo settore, avere dati migliori e in quantità massiccia garantirà migliori decisioni, migliori politiche sanitarie e normative adeguate a beneficio di tutti i cittadini europei. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.